Sono Fabio Sperafico, responsabile dell'area service di Robur. È con grande piacere che vi presento l'ultimo nato in termini di servizio in casa Robur. In-Cloud Watcher Monitoring System. Si tratta di un sistema connesso in modalità in-cloud, che permette in qualunque momento di comunicare da remoto con tutte le unità Robur della linea assorbimento. Uno strumento all'avanguardia, che permette di offrire ai nostri utenti livelli di comfort, efficienza e tranquillità allineati all'elevato standard qualitativo dei nostri prodotti. È quindi possibile garantire comfort e risparmio energetico grazie alla verifica a distanza dei parametri operativi delle unità. Offre l'efficientamento degli interventi grazie all'analisi dei dati di funzionamento. Permette interventi efficaci e tempestivi grazie ad un servizio di diagnostica semplice, precisa e puntuale. Con In-Cloud Watcher sarà come avere al vostro fianco un tecnico e un consulente energetico a completo supporto della vostra attività. Volete saperne di più su queste importanti novità?